Mi trovo presso gli studi di Cilento Channel, in compagnia del preside Romeo Messano e del professor Fedele Ciccarino, rispettivamente vicepresidente e presidente dell'Associazione Armonie Dissonanti, che lo scorso 3 agosto ha organizzato presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli l'evento Il Barbieri di Siviglia e che per il prossimo 14 agosto è in programma un altro grande evento, Agropoli in jazz. Allora, cosa può dirci in merito alla vostra associazione? Com'è nata? Quali sono gli obiettivi? Allora, non guardi me, ma è un'associazione giovane, voluta da insegnanti di musica, i quali hanno detto, ma perché noi ad Agropoli non possiamo avere un'orchestra nostra, stabile? E questo è l'obiettivo principale, per non dire poi degli obiettivi a seguire per salvare i ragazzi, per fare musica. La musica è cultura, la musica è vita, la musica è un altro linguaggio. Allora, poiché ad Agropoli abbiamo, Presidente ti rubo tempo? No. Poiché ad Agropoli abbiamo la scuola media che insegna tanti strumenti, il liceo linguistico presso il liceo scientifico e il conservatorio di Salerno, che è una perla per noi. Allora, assorbendo da queste realtà si potrà cercare di portare avanti quello che è l'obiettivo principe, ma per fare queste cose noi abbiamo dovuto bussare in Gomune e il Gomune è felice, è fiero di poter avere in Brosieguo un'orchestra nostra. Perindando noi ci muoviamo con l'orchestra mediterranea e già il 3 agosto abbiamo dato il barbiere di Siviglia. Ti voglio dare soltanto due dati, 400 sedie disponibili, persone all'impiedi. Quindi è stato un successo. Presidente, cosa può dirci in merito a questo evento previsto presso il Castello di Agropoli, Agropoli in jazz? Era da un po' che avevo in mente di proporre una serata così al Castello di Agropoli, perché trovo che sia una località, una location particolarmente idonea per fare questo genere di musica. Poi abbiamo avuto la fortuna di contattare e di avere la disponibilità di un artista come Gerry Popolo, che forse è uno dei maggiori sassofonisti jazz del panorama italiano. Ha avuto collaborazioni con tutti i più grandi artisti, da Bocelli a Enzo Avitabile, a Renzo Arbore. Quindi sarà veramente un onore e speriamo che la gente venga numerosa a seguire questo evento che abbiamo pensato per questa serata del 14 agosto. Vi aspettiamo quindi tutti al Castello per fare una grande serata insieme al nostro amico Gerry Popolo e la sua band. Rivolgiamo l'invito a tutta la cittadinanza agropolese e nonna il 14 agosto presso il Castello Angino Aragonese di Agropoli, Agropoli in jazz.